Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Turcans e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video andremo a vedere come portare a termine la sfida che ci re di costruire dei castelli speciali di sabbia. Come sempre vi invito subito a lasciare un bel like. Voglio salutare Davide Avocadri, James Doro, Imma Della Marca e Tommaso Nobile che me l'hanno chiesto nei precedenti video. Se anche voi volete essere salutati nei prossimi qui sotto lasciate un commento con l'hashtag salutami. Vi ricordo inoltre che tutti lunedì, martedì e mercoledì dalle 21.30 in poi sono in live sul canale Viola. Il link lo potete trovare qui sotto nella descrizione. Quindi se volete giocare e divertirvi insieme a me vi aspetto in live. Come ultima cosa se i miei video vi sono utili per avanzare di livello all'interno della pass battaglia e mi volete supportare potete farlo inserendo all'interno dello shop il codice creatore Toucans. Se l'acquisto me lo taggerete tra le storie di Instagram io lo farò vedere all'interno dei prossimi video. Quindi amici non ci dilunghiamo ulteriori commenti ed andiamo a vedere come fare per portare a termine la sfida. Per portare a termine la sfida dovremo interagire con tre castelli di sabbia. I primi tre li troveremo ad ovest della mappa di gioco. Qui infatti atterrando su questa spiaggia potremo vedere che i tre castelli si trovano davanti alla casetta verde. Mentre per gli altri tre dovremo andare vicino a moli molesti. Una volta costruiti i tre castelli porteremo a termine la sfida. Quindi amici come detto spero che questo video vi sia stato utile lasciate un bel pollicione in su condividetelo ed iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto come sempre vi ringrazio della visione ci vediamo al prossimo. Ciao!